In Italia una donna su tre, tra i 16 e i 70 anni, è stata vittima della violenza di un uomo. Quasi 7 milioni di uomini e donne hanno subito violenza fisica e sessuale. Oggi sempre di più la libertà delle donne è attaccata su tutti i fronti, soprattutto dalle istituzioni che propongono una revisione, anzi che attaccano la 194, che con il disegno di legge Pilon stanno davvero attaccando tutte le libertà femminili, quindi siamo qua per lottare. Siamo, è il terzo anno che siamo in piazza, abbiamo preparato questa giornata attraverso decine di assemblee nei posti di lavoro, nelle scuole, per costruire dal basso una mobilitazione. Il femminismo è una battaglia che riguarda donne e uomini e tutto ciò che sta in mezzo allo spettro. È una battaglia di civiltà, è una battaglia di uguaglianza, è una battaglia di rispetto. Se è giusto che le donne scendano in piazza, è giusto che tutti scendano in supporto di questa manifestazione.